Sono qui a presentare l'esito di una ricerca che l'IRES Friuli Venezia Giulia insieme a ISIG ha effettuato sul digitale. Abbiamo cercato di testare lo stato di salute del digitale nella nostra regione e lo stato di salute del digitale nella nostra regione è un buono stato di salute, in alcuni casi è addirittura un eccellente stato di salute. Esistono alcune aree d'ombra che sono legate a dei ritardi ma che devono farci riflettere su prospettive di miglioramento come si diceva un momento fa. La ricerca si è strutturata in quattro sessioni, ci siamo occupati dei cittadini, della cittadinanza digitale, i cittadini e la digitalizzazione, ci siamo occupati delle imprese, del digitale, e poi abbiamo dato uno sguardo sulla realtà delle imprese attive nei servizi ICT in regione Friuli Venezia Giulia con particolare riguardo a quelle che vengono definite e sono delle start up innovative. Quando si parla di digitale in generale l'Europa ci chiede di dare una valutazione sulla qualità, sulla qualità per esempio delle nostre connessioni. E qui entra in gioco un parametro che è il divario digitale che diventa in qualche modo dirimente rispetto ai giudizi che noi andiamo a dare sul digitale, sullo stato di salute del digitale. Allora io vorrei che prendessimo in considerazione il divario digitale da due punti di vista. Un punto di vista che è quello più ovvio probabilmente. Il divario digitale inteso come difficoltà tecnologica di infrastruttura ad accedere alle risorse. In questo senso la ricerca dice che il Friuli Venezia Giulia è messo meglio rispetto alla realtà nazionale. In Italia, se prendiamo come campione le famiglie, il 74% delle famiglie sono raggiunte potenzialmente dalla banda larga, dove per banda larga si intende una realtà ben precisa. Il 74% non è una buona statistica per l'Italia. Diciamo che i paesi del nord Europa e del centro Europa sfiorano il 100% e questo ci pone al ventesimo posto come paese rispetto ai 28 paesi dell'Unione Europea pari in merito con la Lettonia. In Friuli Venezia Giulia, grazie anche ad una serie di investimenti intelligenti e che hanno precorsi i tempi, siamo messi meglio, arriviamo al 79% di connettività. Però sarebbe riduttivo fermarsi a pensare al divario digitale solo come problema infrastrutturale, anche un problema di competenze, soprattutto un problema di competenze digitali. Allora la nostra ricerca ha cercato di andare a sviscerare da dove nascono i problemi e si sono analizzati dei dati e alcuni dati sono del tutto ovvi. Per esempio sarà chiaro a tutti che generalmente chi è più giovane è più digitale di chi lo è di meno, anche se a dire il vero questo divario negli anni il delta sta diminuendo, per cui questo è un dato incoraggiante. Poi un altro dato che colpisce è che le persone di sesso maschile sono più digitali rispetto alle donne e qui il divario è significativo, è del 10% in base alle rilevazioni effettuate, questa cosa qua è abbastanza sorprendente dal mio punto di vista. Poi è chiaro che conta il titolo di studio, chi ha un titolo di studio più alto e più digitale di chi ne ha uno di tipo più, un titolo di studio inferiore e la condizione professionale evidentemente è la residenza. Il deficit di competenze è un dato da tenere bene in considerazione, c'è poi un tema del tutto speciale che è quello del rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione, le government. Qui in Italia siamo abbastanza indietro, ma anche qui la regione Friuli-Venezia-Zulia dà prova di maggiore efficienza. Così ragionando assieme potremmo pensare per esempio ad uno strumento straordinario che probabilmente tutti noi abbiamo nel portafogli, la carta regionale dei servizi e all'utilizzo che ne facciamo. Io, non è un dato scientifico questo, ma insomma in contesti di apprendimento o modo di verificarlo, tutti hanno la carta regionale dei servizi e i portafogli, le persone che la utilizzano per l'accesso forte ai servizi digitali sono secondo me, ma nella mia esperienza insomma, una piccola parte. Un'altra cosa che verrebbe da chiedere, e questo forse è più un contesto nazionale, è partito il servizio Speed, servizio pubblico di identità digitale, che in qualche modo è un punto di svolta rispetto al nostro rapporto con la pubblica amministrazione. Perché semplifica e semplificherà la vita dell'accesso. Sarebbe interessante sapere o andare sul sito a verificare quante sono state le attivazioni e quanti sono gli utilizzi di Speed, che è uno strumento che secondo me segna un punto di svolta rispetto al digitale, non solo secondo me evidentemente. Poi il digitale e le imprese. Anche qui abbiamo trovato con un po' più di fatica alcuni indicatori e abbiamo scoperto, abbiamo visto che tutte le imprese, sostanzialmente sia sul territorio nazionale ma anche in regione, avvertono la digitalizzazione come un processo di evoluzione competitiva, di miglioramento della competitività. Quello che però si osserva è che la digitalizzazione delle imprese è direttamente proporzionale alla loro dimensione, per cui la piccola impresa è meno digitale dell'impresa di maggiori dimensioni. E questo va ricercato non tanto nella voglia di farlo, ma nel deficit delle competenze che anche nelle piccole imprese crea un ostacolo. Questo è un indicatore, in questa infografica vediamo i dati di cui vi parlavo un momento fa, le famiglie con accesso alla banda larga e il raffronto fra il 2009 e il 2015. Vedete che in Friuli Venezia Giulia siamo al 79% mentre la media nazionale è del 74%. Nella parte destra dell'infografica invece è rappresentato il grado di utilizzo di internet nelle imprese. In questo caso come potete osservare il Friuli Venezia Giulia è l'unico indicatore in cui il Friuli Venezia Giulia è più indietro rispetto alla media nazionale, è del 39% rispetto al 41% nazionale. che già risente di una difficoltà rispetto allo scenario europeo come potete vedere. Qui però la cosa è abbastanza spiegabile ed è probabilmente dovuta alla vocazione manifatturiera della nostra regione, per cui insomma questo dato qui ci sta e non è particolarmente... Diversa, parlavo prima degli government per i cittadini, la situazione all'interno delle imprese è diversa e come potete vedere il Friuli Venezia Giulia anche qua ha un ruolo di primo piano nel panorama nazionale, siamo all'81,7% di imprese che utilizzano gli strumenti di interazione con la pubblica amministrazione, qui siamo fortunati ma il dato è evidentemente migliore rispetto al caso della digitalizzazione dei cittadini perché le imprese sono in qualche modo tenute ad utilizzare il digitale per alcune procedure di ordinare amministrazione, penso ad esempio a tutta la questione degli addempimenti e procedure per il lavoro, alle dichiarazioni IVA oppure alla fatturazione elettronica, per cui il dato si spiega in questo contesto. I progressi del Friuli Venezia Giulia nel settore della digitalizzazione, faccio osservare che tutti i dati sono positivi, il meno 2 è negativo ma è positivo perché si sta andando a rilevare le persone che non hanno mai utilizzato il pc, il computer, quindi insomma va letto così. Il dato interessante e su cui riflettere è lo zero, lo zero è l'incremento delle persone che hanno inviato moduli compilati alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi negli ultimi 12 mesi. Questo per dire che sulla situazione, sulla realtà del rapporto digitale con la pubblica amministrazione c'è ancora da lavorare. Questa infografica ripropone quello che il presidente di Insiel raccontava nel suo intervento, sono alcuni indicatori, famiglie con accesso alla banda larga, persone che non hanno mai utilizzato il computer e via dicendo, e il podio per ciascun indicatore, come potete osservare il Friuli Venezia Giulia compare come eccellenza in tutti gli indicatori che sono riportati sostanzialmente. Questo per dire, e questo secondo me è il dato interessante, siccome questa infografica raccoglie anche in qualche modo l'evoluzione della digitalizzazione in questi ultimi anni, che il motore è acceso ed è ben in moto. E ancora un indicatore che pone il Friuli Venezia Giulia ad un livello di eccellenza, qui è fotografato il delta fra gli indicatori rilevati in regione, gli indicatori sono l'indicatore in arancione, l'indicatore per quanto riguarda l'intero paese in verde e l'unione europea, come potete osservare in tutti questi indicatori il Friuli Venezia Giulia è più avanti rispetto al resto del paese. Procedo, questi sono i servizi ICT più utilizzati nel rapporto con la pubblica amministrazione, è interessante per esempio che ormai i cittadini e le imprese possono utilizzare l'e-government per una grande quantità di servizi che vanno dal cambio del medico curante, come si diceva, alla consultazione dei codici verdi o codici rossi al pronto soccorso e tutto poi lo scenario relativo a per esempio i pagamenti online e via dicendo. Poi siamo passati a occuparci di quali sono le realtà economiche del settore dei servizi ICT presenti sul territorio regionale. E' un settore molto dinamico questo, in Friuli Venezia Giulia alla fine del 2015 c'erano 1818 imprese attive nel settore dei servizi ICT ed è interessante che in questi ultimi anni il numero delle imprese presenti nel comparto in generale dei servizi è diminuito mentre quelle presenti nel comparto specificamente ICT è rimasto costante ed anche aumentato. Questo in qualche modo va a suffragare l'idea di un settore che nonostante le difficoltà riesce a reagire bene Grazie 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 Grazie